Esigenze che vanno al di là delle necessità terapeutiche che si traducono in una migliore possibile qualità della vita. Con questi obiettivi nasce a Catania Insieme 21, un progetto che ha lo scopo di creare e proporre iniziative comuni e servizi mancanti nel territorio per persone con la sindrome di Down dalla nascita all'età adulta. Oggi giornata mondiale della sindrome di Down e a Catania nasce Insieme 21. Insieme 21 è un'iniziativa che mette insieme le quattro associazioni che nel nostro territorio si occupano di persone con trisomia 21. Le quattro associazioni sono l'associazione italiana Persone Down, l'associazione famiglie Persone Down, Vida 21 e Futuro 21. Qual è lo scopo di Insieme 21? È proprio quello di unire le iniziative delle quattro associazioni per mettere in comune l'esperienza, le iniziative e tutto quello che le associazioni fanno per le persone con trisomia 21. Ma lo scopo Insieme 21 va oltre, cercherà di inglobare all'interno di queste iniziative anche tutte quelle famiglie, quelle persone che oggi non facendo parte di alcune associazioni non hanno dei riferimenti. Proprio per puntare a iniziative che possano in qualche modo, al di là dell'aspetto medico, favorire l'inclusione, favorire l'inserimento nel mondo del lavoro, favorire lo sport per le persone con trisomia 21, favorire soprattutto l'autonomia. Dietro ogni ragazzo con sindrome di Down c'è una persona che ha tantissime esigenze e soprattutto la necessità di realizzare se stesso. Per questo siamo impegnati in un cambiamento culturale sulla disabilità. Guardare con occhi nuovi alla disabilità, questo è la cosa più importante, è il lavoro su cui noi ci focalizziamo tutti i giorni. Abbiamo accolto anche noi l'invito di poter insieme alle altre associazioni presenti qui a Catania mettere le nostre forze a servizio della comunità, a servizio delle persone con la sindrome di Down che vivono nel nostro territorio.